Rode Microphones ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.4 su 10. È il più desiderato. Le sue principali funzionalità sono. Qualità del suono. Robustezza. Versatilità. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Comodo. Controllo volume. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Rode Microphones è di 9.2 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più venduto online. I suoi punti di forza sono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Robustezza. Qualità del suono. Stile. Versatilità. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Audio Tecnica è di 9.6 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità-prezzo. Si presenta come una delle migliori soluzioni per questa tipologia di prodotto. È adatto alle esigenze di chi cerca prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Neumann è di 9 voti su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità. È un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Selectronics ha conquistato una votazione di 9.6 su 10 punti totali. Questo è il migliore di questa selezione. È un prodotto di riferimento che svolge pienamente il suo compito. È sicuramente uno dei migliori articoli disponibili sul mercato. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Questo articolo di Rode Microphones ha riscontrato una valutazione di 9.2 su 10 totali. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Le sue funzionalità sono Ottimo rapporto qualità-prezzo Robustezza Versatilità Qualità del suono Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo di questo articolo di AKG è di 9.4 su 10. Al momento risulta essere il più regalato. Si tratta di una delle opzioni di acquisto più diffuse e apprezzate dagli utenti, come testimoniano le recensioni più che positive da parte di chi l'ha provata. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.